Nicotera, Nicotra in Calabrese, è un comune della provincia di Vibo Valencia, i cui abitanti sono detti nicoteresi. È adagiata a 212 metri di altitudine sulle ultime propaggini meridionali del Monte Poro, con ampia veduta sulla sottostante Piana e sul golfo di Gioia Tauro, dove è posta Nicotera Marina, Monte Santeria di Palmi, lo stretto di Messina, la Spromonte e le isole Eolie. Nella storia nicoterese spiccano nomi di storici, poeti e intellettuali che hanno fatto la storia della cittadina rendendola famosa in tutto il mezzogiorno. In antichità si credeva che Nicotera sorgesse sul luogo dell'antica Medma, tesi confutata dopo l'inizio degli scavi a Rosarno del 1912, diretti da Paolo Orsi. Il nome attuale deriva dal nome romano Nicotiria, che significa segno della vittoria, in quanto fu fondata da Ottaviano, che poi sarebbe diventato imperatore Augusto, nel 100 a.C., dopo una vittoria contro Sesto Pompeo, davanti alla costa. Viene ricordata dal geografo greco Strabone per essere stata un emporium, poi citata di nuovo tra 200 e 300 d.C., nell'itinerario Antonino, come importante stazio sulla via consolare Annia-Popilia. Nel 900 la città subì il definitivo tracollo, per via delle numerose incursioni saracene, che spinsero gli abitanti a ritirarsi in alto, sul sito dove oggi sorge la cittadina. Poi, nel 1065, Roberto il Guiscardo la potenziò e la fortificò, così la città poteva risorgere attorno al castello, che gli fece costruire. Roberto il Guiscardo era, infatti, alla ricerca di un approdo marittimo per i collegamenti con la Sicilia, dove si stava combattendo per allontanare gli arabi dall'isola. La nuova città, ricostruita seguendo schemi tipicamente normanni, risplendette da allora di nuovo fascino. Il castello e la pedrale rappresentavano il cuore della città e da qui si ripartivano le strade che portavano ai diversi quartieri. Tuttavia, fu nuovamente distrutta e quindi ricostruita da Roberto d'Altavilla. Fu distrutta ancora una volta e poi ricostruita nel 1074 da re Tamim d'Africa e nel 1085 dalle truppe di Benevert. Seguì un'ennesima ricostruzione da parte del conte Ruggero di Lauria, che ne potenziò anche il porto. Venne ancora attaccata e distrutta dagli almoravidi guidati da Ibn Maimun e il figlio di Ruggero, Ruggero II, la ricostruì nel 1122. Dopo le numerose distruzioni e ricostruzioni, Nicotera venne conquistata da Federico II e grazie a quest'ultimo la città raggiunse il suo massimo splendore. Fu inoltre istituito un importante cantiere per la costruzione della flotta imperiale. Per potenziare il sistema economico, Federico II fece giungere a Nicotera gli ebrei, molto abili nel settore, per incrementare l'attività economica e finanziaria della città, facendo costruire anche un apposito quartiere dove farli alloggiare, detto Giudecca. La città fu poi data agli angioini, ma ancora una volta i cittadini furono costretti ad abbandonare le loro abitazioni quando nel 1638 fu saccheggiata ancora una volta dai turchi. Durante il 1300 e il 1400 fu dominio dei Ruffo e dei Marsano. Nel 1496 passò alla famiglia Gennaro che nel 1555 assunse il titolo di conte, poi per successione nel 1585 ritornò alla casata dei Ruffo fino alla caduta della feudalità nel 1806. La cittadina fu danneggiata dal terremoto del 1783. L'ordinamento amministrativo che i francesi disposero nel 1807 fece di Nicotera una sede di governo. Al tempo il centro di Nicotera era diviso in vari quartieri, Santa Chiara, Baglio e Porta Grande dove vivevano i borghesi, mentre i cittadini più in vista occupavano la zona pianeggiante e il quartiere San Nicola ospitava i commercianti. Il castello costruito nel 1763 per il conte di Sinopoli, Falcone Ruffo, sul luogo dell'antico edificio Svevo Angioino, è costruzione esteriormente integra con tre torri quadrilatere angolari. Nel vecchio centro della cittadina sono frequenti balconi a pancia e tulipani in ferro battuto, con mensole di granito, opere del settecento.